L'efficacia di una terapia pretesa ormai da tutti gli sportivi, unita al carisma e all'esperienza di chi l'ha creata in Giappone 30 anni fa. Non c'è da stupirsi se ad ogni incontro proposto in Italia con il dottor Kenzo Case si registri il tutto esaurito. Il nostro scopo è quello di dare delle tecniche e delle modalità di applicazione che possano dare buonissimi risultati, anche in quelle condizioni in cui è difficile avere risultati ed è difficile avere un trattamento appropriato. Abbiamo degli istruttori che da 20 anni lavorano in chinesio e stiamo avendo buonissimi risultati in tutti i campi. La mia nuova tecnica, ma in realtà non è così nuova, è da anni che sto facendo ricerche a riguardo e quello che mi preme è andare a trattare la cute, quindi l'epidermide, e attraverso queste strutture andare a provocare degli stimoli a livello del sistema nervoso. Quindi in questo modo riusciamo a trattare quelle condizioni cliniche che sono complicate, che possono essere definite come non trattabili, come ad esempio le paralisi cerebrali, e avere dei buonissimi risultati. Il nastro utilizzato viene applicato sulle zone in cui sono presenti infiammazioni di diversa origine. Attraverso un appropriato posizionamento vengono stimolati i processi di guarigione intervenendo sul sistema circolatorio emolinfatico e su quello neurologico e muscolare. Ma se il principio scoperto dal dottor Case parte proprio dallo scambio che l'epidermide ha con ogni cellula del nostro corpo, dal derma ai tessuti agli organi correlati, è anche vero che la texture del nastro è fondamentale per accentuare questa funzione.